Buongiorno a tutti, lunedì 20 febbraio, dobbiamo aspettarci una seduta interlocutoria perché negli Stati Uniti è festività nazionale, il present day, per cui i mercati azionari resteranno chiusi per questo lunedì. In Europa le borse negozieranno regolarmente ma la chiusura americana ovviamente le condizionerà nel senso che è presumibile che ci saranno alla fine meno volumi rispetto alla scorsa settimana e questo è soprattutto importante nel caso dovessero essere ritoccati i massimi di gennaio dello scorso anno e i due indici che con più probabilità possono riuscersi sono Fuzzimib e Caccarant, pertanto anche un eventuale raggiungimento di nuovi massimi di medio periodo andrà verificato da domani quando i volumi dovrebbero tornare nella norma. Diamo comunque, vi condivido lo schermo, uno sguardo ai futures che girano ugualmente ma i volumi saranno ovviamente più ridotti rispetto al solito. Vedete i futures americani vanno da meno 0,01 dello Standard & Poor's a meno 0,07 del Dow, più 0,03 del Nasdaq 100, meno 0,16 del Russell. Il DAX sta girando a più 0,01 e l'Eurostox a più 0,12. In Asia Nikkei più 0,09, Topix più 0,53, Hang Seng in forte recupero più 2,18, China Share più 1,94, Singapore meno 0,77, Cospi più 0,22. Oggi ho preso i, ve lo porto di qua, scusate, i CDA, Investing, Forestia, Banco Desio, Espent, Rissanamento, P4. Magari diamo uno sguardo prima delle notizie regolamentate a questi titoli così diamo una ulteriore rosa di società quotate da mettere in watch list oltre il Futsimib che abbiamo fatto ieri. Banco Desio si trova nel range alto di periodo, ha un micro gap da chiudere a 3,20, il massimo l'ha toccato a 3,45, si è messo anche a scambiare leggermente di più, per cui sopra 3,45 potrebbe raggiungere i massimi di medio periodo che sono stati, anzi quasi di lungo periodo, perché parliamo di giugno 2021, 3,63, comunque vediamo come usciranno questi dati e al momento in realtà è un titolo da trading range 3,23, 45, non credo che però andrà sotto 3,20. Esprinetti invece è in un laterale piuttosto stretto, ha costruito questa buona base di supporto che è sostanzialmente 7,10 e mezzo, il minimo toccato il 10 gennaio, il massimo 7,78, anche qui a meno di dati clamorosi dovrebbe mantenersi all'interno di questo range, al limite potrebbe andare a fare un 7,89 e mezzo e ritestare i massimi del 14 di novembre. Il risanamento, il grafico purtroppo è molto brutto perché vedete che discesa ha subito nelle ultime sedute, se andiamo a prendere un time frame settimanale, addirittura se dovesse perdere 0,104, il target può essere addirittura fino a 0,084, anche se c'è qualche supporto intermedio però devo dire che sarebbe una bruttissima rottura tecnica e al momento non sembra minimamente voler far base. Poi c'è ancora P quadro, che anche qui è in laterale da diverse sedute, sembra non aver ancora preso una direzionalità, credo che comunque non andrà sotto i minimi del 18 di novembre 1,83 e mezzo, per cui anche qui mi aspetto ancora un trading range, primo livello di supporto probabilmente media mobile a 101,86 e 3 e il range potrebbe essere non oltre area 2 come area di resistenza, poi bisogna sempre vedere i dati ma al momento anche P quadro mi sembra un titolo da trading range. Vediamo un attimo velocemente Forestia, Forestia invece è in una fase piuttosto positiva, il titolo a fine settembre, inizio ottobre, addirittura è andato sotto 11, ha fatto nuovi massimi di periodo il giovedì 16 febbraio a 20,46, in questo caso è ancora possibile un ulteriore spunto rialzista direi tra 21,80 e 22,08, io ve l'ho fatto vedere per non rubare troppo tempo in questo video su MTA International, ovviamente è il solito discorso, per prendere posizioni va benissimo l'MTA International, per fare trading bisogna andare sul mercato francese. Oggi vengono anche staccati i dividendi di Banca Generali e di Mittel, Banca Generali dà un dividendo di 0,8, per cui oggi è probabile un'apertura in gap down, il livello predividendo importante era 32,93, poi Mittel invece dà un dividendo, non che quello di Banca Generali sia piccolo, ma ancora più alto perché è da 0,1223 al rotondo, lo IEL di Banca Generali è 5,72, quello di Mittel è 7,54%, infatti venerdì è stata molto comprata, probabilmente in previsione di questo stacco, per cui è facile che anche Mittel oggi aprirà in gap down e quindi poi magari vedremo come si è mossa dopo lo stacco dividendo. Titoli price sensitive, molti li abbiamo già visti graficamente venerdì, ma quando sono notiziati ci torniamo ovviamente sopra. Telecom Italia, CDP potrebbe impegnarsi a cedere parte all'infrastruttura di team nell'ambito dell'offerta che intende lanciare insieme a McQuire sulla rete, secondo il messaggero di sabato, il governo non ha dato via libera una bozza di proposta di CDP per la rete, chiedendo di riformularla in modo da ricevere il gradimento di tutti i soci, iniziale dal gruppo francese Vivendi, secondo Repubblica di Domenica. Solito discorso, massimo di periodo nella seduta di venerdì e vi avevo già indicato il target per le prossime sedute che è 32,4-32,42. Poi sopra c'è ampio spazio, addirittura fino a 36,92, massimo della prima settimana di aprile del 2022, però attenzione che venerdì c'è il CDA per l'offerta di KHR, se dovesse risolversi in un nulla di fatto, probabilmente il titolo potrebbe anche scendere. Io vi ho consigliato uno stop profit e l'ideale è 0,3086. Poi invece per chi è rimasto fuori, magari area 0,29. Stellantis è fiducioso al futuro della controllata tedesca Opel, che ritiene continuerà a operare con marchio indipendente, ha detto il CEO di Opel, non chiedete di pronunciare il nome perché Oxygen Source al magazine Autobilvoce. Comunque, anche se l'Antis l'abbiamo già vista, è impostata piuttosto bene di breve periodo, il target per le prossime sedute è 16,55, raccomando sempre, la gestione in stop profit della posizione, l'ideale è sotto 15,712. Enel, andiamo a vedere Enel, anche se ovviamente ne abbiamo già parlato anche ieri, Enel ha siglato accordi per accessioni di partecipazioni in due società di generazione termometrica in Argentina, a Central Puerto per un valore totale di 102 milioni di dollari. Ovviamente per Enel è poca cosa, il debito a fine 2022 è 60 miliardi, in questo caso sempre trading range da ormai diverse sedute dopo lo stacco dividendo, quindi dal 23 di gennaio, livello chiave 5,257, sotto questo livello addirittura subito media mobile da 205,117. Unicredit, questa è un'ottima notizia perché ci può essere un riposizionamento dei fondi che lavorano per esempio a benchmark Eurostox, dal 27 febbraio entrerà nell'Eurostox 50 al posto di Dinde, secondo quanto annunciato da Stox LTD. Anche questo titolo l'abbiamo già visto ovviamente nel video di ieri e ormai siamo su livelli, devo dire, molto interessanti e vi ho già detto che potrebbe arrivare a 20,37 e mezzo, 20,716. Stop profit in questo caso direi non oltre 18,974. Poi Banco BPM ha raggiunto un accordo con i sindacati per ulteriori 250 uscite volontarie tramite il fondo di solidarietà insieme a una serie di misure suprime welfare, smart working e contratto integrativo. La banca si è impegnata a oltre 100 assunzioni. Ma ovviamente una notizia come questa non sposta l'andamento di Banco BPM, adesso siamo in un trading range perché possa accelerare il rialzo, deve andare sopra 4,35. Il livello chiave è sempre area 4 per un'eventuale uscita dal titolo. Per quanto riguarda il target per un ulteriore rialzo, vi ho già detto, massimo di maggio 2016, 4,54,8. Poi Leonardo ha concluso con Wojowski, Zakledi, Lonsen, vabbè, Gruppo Polacco della Difesa, un accordo per il supporto a lungo termine della flotta M346 dell'anotica militare polacca, implementando così con la collaborazione già in atto. Mi viene in mente quella barzelletta, quella freddura di una persona che va a una visita medica e gli mettono tutte le consonanti una dietro l'altra e il medico dice a questa persona le sa leggere, no, no, io questa persona la conosco addirittura, sembra le freddure che faceva Wozniak. Comunque Leonardo è sui massimi di periodo, vi ho già detto che può tornare fino a 10,895, stop profit sotto 10,23. Poi Biper ha ottenuto l'autorizzazione della BCE al computo dell'utile esercito M22 nel patrimonio ai fini di vigilanza, pertanto ho provveduto a determinare i ratio FASED-IN definitivi con un CET-1 al 31 dicembre 2022 pari al 12,47%. Poi è stata perfezionata l'accessione a Banco d'Eso di due rammi d'azienda composti da 40 sportelli bancari Biper e 8 di Banco di Sardegna. Abbiamo già visto che assieme a Unicredit è la miglior banca in assoluto quotata su Piazza Fari come rendimento e il prossimo target è addirittura 3,16. Attenzione al gap lasciato aperto a 2,679, sotto questo gap io sinceramente porterei a casa. Poi analizziamo MFA perché magari diamo spazio anche a altri titoli, non tutti e due. Sky è vicino ad assicurarsi in esclusiva la maggior parte dei diritti sulle gare di Champions League nel prossimo triennio, mentre Amazon Prime Video manterrà quelli per i best pick del mercoledì secondo fonti di settore. Il titolo indipendentemente da questo stava già soffrendo, è molto importante che non perda la media mobile 200 0,4072 perché sotto andrebbe subito a testare la media mobile 50 0,392 e poi i minimi del 25 di gennaio 0,3802. Poi Garofalo che io ho preso qui sui minimi da qualche seduta per il portafoglio della newsletter finanziaria mette sul piatto 100 milioni di euro per acquisizioni secondo solo le 24 ore, con uno stop sotto 3,575 il titolo per me può comunque sempre tornare a testare la media mobile a 200, 3,98. Poi tra le notizie Price Estive di oggi viene ribattuta quella su Shuker che riguarda praticamente il discorso del backlog e dello sconto in fattura alla luce delle recenti disposizioni normative in materia del 110 nel settore di infissi e di schiamature solari ha comunicato che proseguirà lo sconto in fattura per tutto il periodo di backlog in titolo in borsa ha perso oltre il 12% nella seduta di venerdì. Ha lasciato questo gap aperto a 8,30 adesso al di là che questo era già uscito bisogna poi vedere come il governo si muoverà con il decreto definitivo per il 110 il target è 6,88 avendo a 6,92,2 la media mobile a 200 non ci sono molti titoli che mi piacciono particolarmente nel webinar di sabato mi avete chiesto un titolo per oggi come sapete io non posso suggerirvi alcun acquisto vi posso dire che il rapporto rendimento rischio con uno stop sotto 2,73 la situazione tecnica migliore ce l'ha i GD perché comunque indicatori oscillatori stanno provando a girare a rialzo senza esagerare primo target 2,95,5 poi media mobile a 100 3,036 raccomando a tutti quelli che desiderassero provare il titolo però di farlo solo se sono disposti a applicare uno stop loss sotto 2,73 io per trasparenza dico che ho da una decina di giorni anzi due settimane perché sì due settimane perché poi dieci giorni borsa aperta volevo dire il titolo nel portafoglio della newsletter e mi sono dato appunto uno stop sotto 2,73 per questa mattina abbiamo concluso noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno